ehhehe non è una Ferrari lo avevo sbagliato la forma beh magari quella è la Givetta non vediamo allora tu va e ma abbiamo eeeh e gira quella vale i conti quanto vale? una lancia Sì, l'anno 70 fa Bellissima Un'altra lancia Un cambio La guida s'nosta Sto spagliando Non mi tolgo Io qua In su Buongiorno 1 Candidati Prendi 9 Ed